Ciao a tutti, ha detto Cacquasparta il gioco del Noca, la contrada del Ghetto che sta festeggiando, ora stanno svolgendo la gara per il secondo e terzo posto, valida comunque per il palio finale, mi ricordo. Grande clima di festa. Un ventolo di bandiere, nel frattempo si continua a giocare. Questa comunque è la gara per il secondo e terzo posto.